Buongiorno, Siamo bentrovati a mattino 6 di giovedì 15 marzo 2018, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Partiamo come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi, iniziamo con il centro, con le quattro edizioni. Partiamo da quella di Pescara, ovviamente il titolo principale riguarda sempre il delitto di Alessandro Neri. Ieri nuove perquisizioni e sequestri, era stata ispezionata nei giorni scorsi dai carabinieri del RIS di Roma l'auto del giovane, la Fiat 500. Ieri sono state poste sotto sequestro due auto della famiglia, la malletta. Vedete anche il titolo, delitto neri perquisizioni e sequestri, al setaccio i conti correnti immobili e due SUV in uso alla famiglia. Li vedete inquadrati in questa foto, poi vedremo anche più avanti delle immagini. Vediamo anche le altre notizie sulla prima pagina del centro, rimpasto in regione, parliamo di politica. D'Alfonso parte per Roma, Lolli, il vicepresidente della regione, che dunque assume pieni poteri, lo farà dalla settimana prossima. Cambierà la giunta regionale con alcuni ingressi e qualche uscita. E poi in Abruzzo, Stop per tre anni, ai nuovi centri commerciali. E poi L'uomo di Trump a Caramanico, tra i parenti di Pompeo. E poi film in Abruzzo, vedete questo titolo in basso, si gira sul ponte del mare con Micaela e Fabio De Luigi, il film No Kites, il nuovo film di Guido Chiesa. Spostiamoci, torniamo nella parte alta della pagina. Le cronache, inchiesta di Rigopiano, indagata la funzionaria che respinse due allarmi. E poi Montesilvano, addio Isola Pedonale, nel centro cittadino. Vedete quest'altro titolo. E poi l'ultimo richiamo in prima pagina del centro riguarda la serie B, il calcio, il Pescara. Pescara reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, seguite a quella di Cittadella. Calendario da brividi, ora il Pescara. Rischia grosso. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti-Lanciano-Vasto, sempre del centro. Vedete il titolo in apertura, comune in rosso, ispettori in arrivo, Chieti-La Corte dei Conti lancia un nuovo allarme e apre l'indagine. E poi a Lanciano apre la nuova ala del carcere, ma gli agenti protestano. Il reparto ospiterà 46 detenuti. Le cronache, allarme a Chieti, ladri d'auto in centro, sub rubati nella zona della villa comunale. E poi a Tessa, la Oniwell piace a due industriali locali. Questo è l'altro titolo che riguarda l'azienda, la fabbrica di Atessa. Anche in questo caso, più avanti, vedremo un servizio sulle novità importanti e positive per la Oniwell di Atessa. E poi a Vasto, aggredì le vigilesse, ridotto lo stipendio punito dipendente comunale. Vedete quest'altro titolo. Lasciamo la prima pagina del centro di Chieti-Lanciano Vasto. Andiamo a vedere quella di Teramo. In questo caso siamo a Mosciano. Bus nasce, la megastazione a Mosciano. Il nuovo snodo provinciale dei trasporti sorgerà nel centro fieristico. E poi, Teramo Basket, in visita da Monsignor Leuzzi. Il Vescovo di Teramo, dice questa città, è una bella realtà sportiva. Vedete la foto con il Vescovo di Teramo, assieme ai giocatori del Teramo Basket. Vediamo le altre notizie. Siamo sempre a Teramo, norme più semplici per la ricostruzione. Il sisma a Teramo, queste le richieste. E poi Giulianova, l'oasi del Tordino, sarà di 3 chilometri. E poi ci spostiamo ancora più in basso, a Roseto degli Abruzzi. In centro mancano almeno 500 parcheggi. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. In questo caso la cronaca giudiziaria in primo piano. Maxi sequestro di 6 milioni di euro. Carsoli, blitz della finanza alla Rotosud. Bloccati conti, titoli e immobili. Questo è il titolo di apertura che leggiamo dall'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. La fotonotizia riguarda invece l'Aquila e non è una notizia positiva per il calcio rosso-blu. Dimissioni in blocco dei collaboratori della società. Addio sogni di gloria, tutti in fuga dall'Aquila Calcio. Le cronache, siamo sempre in questo caso all'Aquila. Si parla dell'ASMSPA anche nel 2018. Costerà 14 milioni e mezzo di euro. Questo è il titolo, lo vedete nella parte alta della pagina. Poi ci spostiamo più in basso. Colella denuncia alla Corte dei Conti. Canistro contro la Regione. E poi il ritorno degli uffici in centro. Il comune di Sulmona vuole l'ex caserma. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Anche in questo caso l'apertura è sull'omicidio di Alessandro Neri. Altre due auto all'esame dei RIS. Si tratta di un Audi e una Mercedes che sono nella disponibilità della famiglia. Ora i carabinieri puntano con decisione sui dissidi tra parenti per il patrimonio. E poi Giulianova Santoleri. Ecco il ricorso. Vedete questo il titolo che riguarda la vicenda di Giulianova. Ecco il ricorso per la libertà. Andiamo più in basso. Maxi sequestro della finanza in una società. L'azienda, come leggiamo da questo titolo, accusata di un'evasione da 6 milioni di euro. Oltre al titolare è indagato. Anche un prestanome. E poi l'articolo di Spalla. L'economia ha bisogno di un esecutivo rafforzato. I dati dell'Istat mostrano una ripresa a portata di mano per la nostra regione. E poi in basso andiamo a Teramo. Accattoni blitz contro i molesti. In alto si parla di altre notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. Lanciano la protesta davanti al carcere con fischietti e bandiere. Chieti, comune in rosso. Arrivano gli ispettori. Scatta l'indagine della Corte dei Conti. E poi l'Aquila, il presidente del Lance. Denuncia. Ricostruzione al palo. L'ultimo titolo con richiamo di foto in prima pagina riguarda il calcio. Il Pescara. Biancazzurri Tour. The Force da Brividi. Pescara ed Epifani sono ad un nebbivio. Pescara che vi ricordo domenica giocherà il posticipo di Avellino alle 17.30. Poi ci sarà Lempoli allo Stadio Adriatico la domenica successiva. E poi la gara di Brescia prima di Pasqua. Siamo alla prima pagina del quotidiano. La città. Ricostruzione. Proposte. Non proteste. La situazione di Teramo uguale a quella di Macerata. Lavori in ritardo per eccesso di burocrazia. E poi Silvi. Erosione mareggiate. Non c'è spazio per gli ombrelloni. Piagge. Fantasma. E poi Teatro Romano. Stavolta il referendum si farà. Siamo a Teramo. Lettera al commissario. E poi lavori antisismici. La San Giuseppe. Non sarà un polo scolastico. Da Teramo a Roseto. Tassa turistica. Roseto pronta a cambiare. Vedete questo titolo in basso. Dopo gli scontri il sindaco tende la mano agli operatori. Lasciamo anche la prima pagina del quotidiano. La città. Andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani nazionali. Che troverete oggi in edicola. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Vedete la foto con il titolo di apertura. Perché è scomparso ieri Stephen Hawking. Addio al genio dei buchi neri. Aveva zla zla e amava la vita. È morto all'età di 76 anni nella sua casa di Cambridge. E poi a centro pagina. Guerra fredda. May Putin. Londra. Espelle 23 diplomatici russi. E sanziona gli oligarchi. Mosca risponde e dice reagiremo. E poi il titolo che riguarda la politica. Salvini parla con Di Maio. Berlusconi chiude la porta. Dal Corriere della Sera a Repubblica. Il titolo in alto riguarda la politica e il postelezioni. Lega, Movimento 5 Stelle, prove di governo. E poi vedete anche su Repubblica. Addio a Hawking. L'immortale, la sua scienza. È stata energia pura. E poi in basso. Anche in questo caso c'è la notizia che riguarda ormai la polemica. Ma più che polemica è una vera e propria battaglia diplomatica tra Londra e Mosca. Tra Gran Bretagna e Russia. Il primo ministro inglese May escalation contro Mosca. Pronti a bloccare i loro tesori. Tesori, siamo al fatto quotidiano. Si parla di politica nel titolo in alto di apertura. Dieci giorni dopo non si sa ancora chi sono gli eletti. Le regioni non riescono a completare il riconteggio e le assegnazioni dei seggi dei politici. Con il paracadute. Siamo alla prima pagina del messaggero nazionale. La politica in primo piano. Camera alla Lega. Spiraglio PD. Ipotesi deleghista Giorgetti a Montecitorio. Con i voti Dem. Salvini chiama Di Maio. E Martina. Sul governo. Apertura del carroccio a Movimento 5 Stelle. Alto là di Forza Italia e di Berlusconi. Mai con loro. O l'alleanza salta. E poi vedete il piano anti-zingaretti nel Lazio. Dimissioni di massa e nuovo voto. Contatti tra le opposizioni in regione. Questa è una notizia importante perché potrebbe avere riflessi in chiave nazionale. E poi vedete l'ultimo sorriso di Stephen Hawking. L'esploratore delle origini dell'universo. Genio e divulgatore. Lo scienziato scomparso ieri all'età di 76 anni. E poi siamo a Libero. La politica in primo piano nel quotidiano di area centrodestra. Silvio Strizza l'occhio a Di Maio. Le giravolte del capo di Forza Italia. Berlusconi nega davanti ai suoi. Ma in privato spera che Salvini trovi un'intesa con 5 Stelle. Per non tornare alle urne. E poi senza premio di maggioranza non si governa. A ragione la Meloni. Scrive il quotidiano libero. Meloni che vedete nella foto. Va cambiata la legge elettorale. Il mattino di Napoli. In alto ancora la politica in primo piano. Asse lega Movimento 5 Stelle. L'ira di Berlusconi. Salvini telefona a Di Maio. Faccia a faccia il 21 marzo. Il cavaliere punta ad un'intesa con il PD. E poi un altro titolo. Via Fani e l'utopia di Moro. 40 anni dopo. In questi giorni viene ricordato il sequestro. E l'omicidio di Aldo Moro. E poi siamo al raid alla Federico II all'Università di Napoli all'Arme Sicurezza. Un ordigno incendiario negli uffici del rettorato. Nessuno ha visto. E poi il sole 24 ore. Si parla di Italia spiazzata dai tribunali. La UE recupero in 8 anni al 100% per i crediti collateralizzati in due per gli altri. La lentezza della giustizia nelle cause per rientrare dalle sofferenze. Soprattutto al Sud supera i limiti posti dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea. Siamo al manifesto. Vedete i buchi neri. Vincitori nervosi a caccia di alleati. Berlusconi e Salvini sempre più ai ferri corti. Almeno ufficialmente. L'altro quotidiano di Roma. Il tempo. Fossa comune. Si parla delle buche in alto. Vedete della capitale. E poi più a centro pagina. 40 anni e la farsa continua. Moro flop sulla commissione. Si parla di una commissione di inchiesta. e del flop che secondo il tempo c'è stato proprio sulle indagini per il rapimento e l'uccisione del leader della democrazia cristiana. Siamo alla stampa di Torino. Svolta Lega Movimento 5 Stelle per il governo. Ipotesi di accordo tra Salvini e Di Maio. C'è l'ok di Grillo. L'ira di Berlusconi che dice io li caccerei. E poi vedete i segreti illuminati da Hawking. Addio all'astrofisico. La sua mente ha esplorato i meandri dell'universo. E poi la politica. Politica internazionale in questo caso. Pugno duro di mei. Londra e Spelle 23 diplomatici russi. Siamo al giornale. Cosa vuole fare Matteo? In questo caso è Matteo Salvini. I segreti di Salvini. Resta leader del centro-destra. Ma apre a Di Maio. E gli telefona. Siamo al quotidiano La Verità. Passate le elezioni. Il governo licenzia. Piaggio Aerospace messa in mano agli arabi. Dell'esecutivo a guida PD annuncia 114 esuberi. Alla faccia scrive il quotidiano La Verità. Delle rassicurazioni di Renzi, di Lotti e della Pinotti. E del Golden Power mai esercitato. E poi vedete la foto più in basso. Movimento 5 Stelle sottotiro. Casaleggio multato dal garante. Grillo rompe gli argini. Reddito di nascita. Siamo al secolo. Secolo d'Italia. Ricostruire o morire. Si parla di Norcia. Del post terremoto. Di questo sequestro. Di questa struttura. Che si trova. Questa struttura. Questo centro polivalente. Che si trova proprio al centro di Norcia. Lasciamo anche il secolo d'Italia. Passiamo al secolo XIX. Il quotidiano di Genova. In alto il titolo sulla scomparsa dell'astrofisico inglese. Poi più in basso. Ipotesi governo. Lega Movimento 5 Stelle. Salvini chiama Di Maio. Via libera di Grillo. E poi anche come su tutti i quotidiani. Oggi ne dico. Si parla di questa decisione del primo ministro inglese May. Di mettere alla porta 23 diplomatici russi. Siamo al quotidiano della conferenza episcopale italiana. Avvenire meno arrivi in Europa. Più fondi alla Turchia. E poi Hawking è volato in carrozzina tra le sue stelle. Morto a 76 anni. Scrive Avvenire. Date o portò la scienza a tutti. E poi vedete l'altro titolo di spalla più in basso. Politica. Contatti tra Lega e Movimento 5 Stelle. Su presidenze e tasse. Venire è l'ultimo quotidiano nazionale che prendiamo in. Abbiamo preso in esame per quanto riguarda. L'edicola di questa mattina. L'edicola dei quotidiani nazionali. Possiamo tornare al centro per ripartire con le cronache abruzzesi. E poi dalle nostre province. A pagina 2 si parla di politica. L'uomo di Trump che ha origini e radici abruzzesi. Per meglio dire radici del pescarese. Perché la sua famiglia è originaria di Caramanico Terme. Siamo in provincia di Pescara. E proprio c'è questo viaggio del centro alla scoperta dei parenti del nuovo segretario di Stato degli Stati Uniti. Mario Carestia gli scriverò una lettera. Lo inviterò a venire qui per aiutare i nostri giovani. Dunque radici abruzzesi per il numero 2 degli Stati Uniti. Il nuovo segretario di Stato nominato da Trump. In basso, Ceremia Mancini, ricostruisce la storia della famiglia. Tutto iniziato da un atto di matrimonio datato 1906. E siamo alla politica regionale. In questo caso si parla della nuova giunta con l'attuale presidente D'Alfonso che andrà a Roma come senatore e la palla passerà al vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Ci saranno delle novità in giunta, almeno secondo questo titolo del quotidiano Il Centro. Dentro Mazzocca, attuale sottosegretario con delega all'ambiente e alla protezione civile. Fuori Donato Di Matteo, che tra l'altro con l'altro assessore Gerosolimo aveva inviato due giorni fa una lettera al presidente Luciano D'Alfonso proprio per rimettere il mandato. D'Alfonso passa, vedete questo titolo più in basso, il catenaccio di questo titolo. Passa i poteri al suo vice Lolli. Graziato Gerosolimo, che porta in dote la sua lista civica, un posto anche a D'Ignazio, almeno secondo il centro. E poi fondi ai comuni, ecco i destinatari, si parla di altro nell'articolo di fianco. Pioggia di milioni antifrane per nove casi urgente, ne ha parlato proprio ieri il presidente della regione. E poi in basso, ma sulle trivelle, ci scappa la GAF, ricorso perso per un indirizzo sbagliato. Ora l'Abruzzo ci riprova, il via libera, si parla del via libera, alle estrazioni. Siamo alla politica nazionale, l'unico titolo che vi mostriamo prima di passare alle cronache dalle province. Rebus si taglia dopo il voto, Salvini apre al Movimento 5 Stelle, Berlusconi non ci sta, è polemica all'interno del centro-destra, vedremo come andrà a finire. E siamo alla cronaca d'Abruzzo. La regione svela il piano commercio, stop ai nuovi ipermercati fino al 2021 in basso. La Will commenta invece i dati Istat sul lavoro e dice serve un patto per lo sviluppo, mentre col diretti dice stop al cibo falso. Parte la petizione anche dall'Abruzzo. Siamo alla conaca di Pescara, l'omicidio di Alessandro Neri, auto sequestrate e perquisizioni. Ieri sono state prelevate, possiamo vedere anche le immagini, sono state prelevate dai carabinieri del comando provinciale di Pescara e portate nella caserma di Rancitelli. State vedendo proprio le immagini, due auto appartenenti alla famiglia, da parte della madre di famiglia Lamaletto. Si tratta di una Mercedes, i due SUV, una Mercedes e una Audi che verranno esaminate, vedete queste due auto nelle immagini, verranno esaminate dai carabinieri accertamenti patrimoniali e sui movimenti finanziari della società gestita dal cugino e dallo zio di Alessandro. Intanto l'autopsia svela il primo proiettile entrato da un fianco. Non si esclude la lezione finita in tragedia e poi ci saranno nuovi accertamenti su queste due auto che sono state portate, prelevate ieri a Orsogna e poi prelevate in un altro centro della provincia di Echieti dai carabinieri su disposizione della procura. Ci saranno gli accertamenti del RIS. Vedete a fianco a queste due auto la 500 rossa proprio di Alessandro Neri. Dunque ci saranno nuovi accertamenti anche su queste altre due auto, dopo gli accertamenti sulla 500 del giovane. Cambiamo pagina, ma siamo sempre alla cronaca. Restato due volte in 24 ore, il giovane preso per un furto avrebbe rapinato e palpeggiato una quindicenne. Siamo all'inchiesta di Rigopiano. Indagata la funzionaria che respinse due allarmi davanti ai carabinieri forestali, Daniela Acquaviva ha spiegato la sua verità. Il 118 disse che la notizia era stata verificata ed era tutta una montatura. Questo è il titolo che riguarda l'inchiesta di Rigopiano. Siamo a Pescara, sempre si parla di strade. In questo caso di strade al buio per i lavori servono altri tre mesi. Tonelli di Pescara Energia annuncia tempi lunghi per eliminare i continui blackout. Sono 32 gli interventi da realizzare. Scoppia la polemica del centro-destra. Andiamo ancora avanti. La mobilità a Porta Nuova. Viale Marconi non sarà a senso unico. L'assessore Diodati a zero i progetti di Civitarese. Nella strada solo corsie preferenziali per i bus, ma non piste ciclabili. I ciclisti che parlano proprio di mobilità dicono che siamo tornati all'anno zero. Alcune associazioni criticano l'amministrazione comunale. Proseguiamo. Maratona d'Annunziana si farà tutte le settimane. L'appuntamento di sabato scorso nel centro storico diventerà una costata antebrani e versi del Vate per alietare le serate di chi frequenta i locali della Movida. E intanto in basso, parlando di vela, un 41enne pescarese vince ad Anzio. Petra Cliba racconta l'esperienza vissuta sabato con il team abruzzese. Ci siamo difesi benissimo, dice il velista. Siamo alla sanità, prevenzione, tumori, consigli della Lilt in piazze e negozi. Cominciano sabato gli appuntamenti. I volontari suggeriscono qual è il migliore stile di vita da seguire. E poi si parla, lo si è fatto ieri all'Università d'Annunzio dei Bitcoin, Pienone. L'Università Sala Grimita di studenti e professionisti per le criptomonete. Andiamo avanti, da Pescara ci spostiamo a Montesilvano. Viabilità e negozi, stop, isola pedonale su via Roma e piazza Diaz. Tornano le auto. E poi sì al rilancio del piano di recupero del borgo. Torna in giunta il programma di valorizzazione del centro storico di Montesilvano. Siamo sempre a Montesilvano. Aliano con i fotored si vuole far cassa. Iniziativa del capogruppo della lista Montesilvano 2019. Attacco alla giunta sulla decisione di voler collocare altri sei occhi elettronici sui semafori degli incroci pericolosi. E poi in basso la cronaca litiga con la moglie De Vade. Preso il quarantenne incrociato i carabinieri ha tentato la fuga e è tornato ai domiciliari. Siamo a Francavilla al mare. Piscina in vendita a 2 milioni e mezzo di euro. L'amministrazione abbassa il prezzo e ritenta la cessione dell'impianto sportivo per fare cassa. Proseguiamo. Siamo a Penne nell'area Vestina. Mario De Fiori, lavori antisismici entro luglio. Procede come da cronoprogramma il cantiere per gli interventi di riqualificazione delle aule scolastiche e dei laboratori affidati alla ditta Antelli. E poi Penne e l'area Vestina parteciperanno alla fiera di Parigi. In basso a Caramanico Terme, sci alpino pienone a Caramanico. Da domani a domenica tre giorni per gli appassionati della neve a Monte Rapina. Siamo a Chieti. L'amministrazione in rosso comune senza soldi. Vedete questo titolo a tutta pagina. Ispettori in arrivo. La Corte dei Conti rilancia l'allarme sulle finanze disastrate. Apre un'indagine. Chiesto l'intervento del ragioneria dello Stato. E poi c'è una bella notizia per l'occupazione in Abruzzo. Comunque una notizia positiva perché la Onuel di Atessa piace a imprenditori locali e anche nazionali. Ne ha parlato ieri a margine della conferenza stampa per illustrare il bando sul commercio regionale. Il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Possiamo dunque andare ad ascoltare le parole del vicepresidente della regione proprio sulla situazione Onuel e sulla possibilità che imprenditori locali possano rilevare l'azienda. Vediamo. Nelle ultime ore si parla della Onuel. Si parla di una possibile novità anche positiva. Un imprenditore abruzzese, Gilberto Candeloro, sarebbe interessato a rilevare l'azienda. Lei ha conoscenza di questa notizia? Ovviamente io sono a conoscenza di tutto quello che avviene. Le debo dire che la cosa in realtà è un po' diversa, nel senso che sono più di uno gli imprenditori interessati. Io ieri ho avuto occasione di portare un grande imprenditore italiano collegato a un altro imprenditore abruzzese a visitare il sito. Effettivamente poi ci sono altri imprenditori. L'imprenditore abruzzese è Candeloro? No, no, no. Quello che abbiamo visto ieri è un'altra compagine, diciamo. Io insomma sono molto legato a Gilberto Candeloro e mi auguro veramente che anche lui ci possa dare qualche buona notizia. È molto significativo che una parte delle imprese abruzzesi, imprenditori abruzzesi, che potrebbero stare a casa propria a farsi i propri affari, invece abbiano raccolto questa sfida, che è una sfida per la Regione e si siano messi a disposizione per provare a dare una mano a una realtà emblematica come quello di Oniwell. Debo dire che sono veramente moderatamente ottimista. Moderatamente ottimista il Vicepresidente della Regione Giovanni Lolli e l'augurio che possano esserci spiragli positivi per la Oniwell e gli oltre 400 lavoratori. In basso siamo a vasto, aggredì due volte vigilesse, ridotto lo stipendio, vasto decurtazione di quattro ore dal mensile di un dipendente comunale. Ha mancato di rispetto alle colleghe. Andiamo avanti, siamo ancora a Chieti, cena finita nel sangue, coltellate per 50 euro. La donna accusata di tentato omicidio resta in carcere. Poi l'inchiesta sul tifo, indagati 5 e 3 per minacce, ma il sindaco li scagiona. E poi, morto sul lavoro, la provincia deve pagare, l'ente chiamato a risarcire 400 mila euro alla famiglia di un artigiano deceduto durante il taglio di un albero. Siamo a Guardiagrele, lo scomparso di Guardiagrele è benito, abbandonato dalle istituzioni. Lo sfogo di Annalisa Loconsole dell'Associazione Penelope ad un anno dalla sparizione dell'83enne. Una vita umana non si cancella così. A Rapino, poi, comuni ciclabili, arriva la bandiera gialla. Proseguiamo, siamo ad Ortona, smottamento a Santa Lucia, condominio in sicurezza. Parla il tecnico intervenuto per garantire l'incolumità della palazzina. San Vito Chietino, archivio nel degrado, il comune lo sposta. In basso attollo, all'Eno Museo, si parla di invecchiamento e cultura. Siamo alla pagina di Terramo. Rivoluzione nella mobilità bus, nasce la megastazione di Mociano Sant'Angelo, sorgerà nell'ex centro fieristico, lo snodo dei trasporti su gomma. In provincia, disponibili 550 mila euro del masterplan. E poi in basso, la provincia strada dei parchi, riducete il costo dei pedaggi, questa la richiesta. E poi controguerra, bonifica in un anno 150 multe per combattere la prostituzione. Siamo ancora a Terramo. Sisma, difficile rientro nelle case. Ricostruzione, servono norme semplici. E poi in basso, sempre nel capoluogo aprutino, nasce il centro sul DNA dei microorganismi. L'Istituto Zooprofilattico inaugura il punto di referenza nazionale che identifica i ceppi delle patologie. Ancora a pagina della provincia di Terramo. Silvio, oggi niente corrente, chiusa la scuola da Vinci. E poi Pineto, vandali nel sottopasso di Villa Ardente. Siamo a Roseto, il rebus dei parcheggi in centro. Mancano più di 500 posti auto. Il conto fatto dal consigliere delegato alla viabilità De Luca. E poi ancora Roseto. Vendita a Lotti per l'area delle baracche. L'ipotesi del comune dopo le sei aste fallite spunta il problema del mancato accesso diretto al mare. Arriviamo alla pagina di Sulmona. Il comune vuole l'ex caserma De Amicis. Il ritorno degli uffici in centro. Il demanio fallita l'operazione vendita. Pronto a cedere a Lente. La struttura che potrebbe accogliere Sacca e Cogesa. E poi più in basso. La finanza trova casa nella zona Pep. La sede è inagibile. La giunta a Casini promette alle fiamme gialle i locali di Viale del Metamorfosi. Sempre in basso Sulmona. Centro anziani, multa e chiusura del bar. E poi ragazzi in ospedale con la turbercolosi. Il 17enne è ora in una casa famiglia. Siamo alla pagina dell'Aquila. Minacce su WhatsApp. Spacciatori presi. La droga a scuola. Due 17enne hanno estorto 110 euro ad un ragazzo. La madre denuncia. Caccia i capi del traffico di marijuana. Per i giovani. E poi folla e bandiera nero-verde per l'ex campione Ricci. Basilica di Collemaggio piena di amici ed ex compagni dell'Aquila Rugby. Esposte la maglia indossata con la nazionale. E una foto dello scudetto in ricordo di Giampiero Ricci. E poi pendolari in piedi sul bus della tua. L'Aquila scatta la protesta. Vedete il titolo di spalla. Siamo arrivati poi alle pagine dello sport. Ma dobbiamo fermarci per ora per qualche attimo. Poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Abbiamo esaurito la lettura delle pagine del centro. Siamo al messaggero all'inserto Abruzzo. Svolte strategiche da Alfonso. Eredità di 500 milioni alla sua regione. Abruzzo in corsa per ospitare un centro per l'energia pulita. Nei laboratori test sulla fusione da battere una guerrita concorrenza. Vedete poi nella foto, perché ieri il Presidente della regione ne ha parlato, a margine proprio della conferenza stampa, per parlare proprio dei fondi da utilizzare per interventi prioritari nella nostra regione. Ha parlato anche della lettera che aveva ricevuto dagli assessori di Matteo e Gerosolimo, che vedete inquadrati nella foto, il Presidente D'Alfonso, che ha proprio illustrato qual è il suo pensiero, la sua idea su questa lettera che aveva ricevuto da parte dei due assessori. Allora possiamo andare ad ascoltare proprio il Governatore della regione su questa vicenda, che comunque potrebbe creare dei problemi all'interno della Giunta, anche se poi, come abbiamo visto, ci potrebbero essere, ci saranno delle novità che deciderà il Vice Presidente Lolli quando subentrerà all'attuale Governatore. Vediamo le parole, ascoltiamo le parole del Presidente D'Alfonso. Le critiche ed il dissenso verso l'operato del Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, alla fine da parole si sono trasformate in fatti. Già all'indomani della sconfitta elettorale, l'assessore Donato Di Matteo aveva manifestato tutto il suo rammarico per la debacle venuta fuori dalle urne, indicando nella politica del Presidente D'Alfonso una delle cause maggiori del pessimo risultato. Ieri pomeriggio sia Di Matteo che Gerosolimo hanno rimesso nelle mani del Presidente della Giunta regionale le proprie deleghe attraverso una lettera congiunta, invitando il Presidente D'Alfonso ad azzerare il Governo regionale. Una lettera che ha scatenato reazioni a catena all'interno del PD, con il segretario regionale dimissionario Rapino, che in una nota ha definito la richiesta di azzeramento della Giunta irricevibile sia sul piano istituzionale che sul piano politico. Anche Camillo D'Alessandro ha commentato la lettera. Mi chiedo a cosa c'entra l'Aggiunta ed il lavoro che c'è da fare con posizioni che hanno il sapore del mettere le mani avanti, ha dichiarato il neodeputato. Sulla questione questa mattina è intervenuto anche il diretto interessato, il Presidente Luciano D'Alfonso, che ha tagliato corto quella che ha ricevuto non è una lettera di dimissioni. Sto aspettando Lolli che mi porterà la lettera che io non ho letto. Mi dice che lui ha l'originale, una pergamena, che io voglio leggere e capire cosa c'è scritto. Dopo che ho letto non ho difficoltà, come è noto, a far conoscere la mia posizione. Ho anche precisato il rapporto che c'è tra dimissioni e immissione in ruolo. Io mi aspetto di leggere una lettera che parli di immissione in ruolo e sono convinto che ci sarà scritto su questa pergamena. Di Matteo e Gerosolimo, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, si avviano così a creare un percorso civico che potrebbe misurarsi già nelle prossime elezioni regionali. Andiamo avanti, grande distribuzione, arriva lo stop, niente mega market fino al 2021. Vedete questo titolo in basso, ne ha parlato ieri proprio Lolli presentando il bando che riguarda il commercio nella nostra regione. Andiamo avanti, siamo a Pescara, tua chiede la strada, parco per i bus, l'azienda pronta a servire 31 comuni con il biglietto unico, il presidente Tonelli, il piano sarà illustrato a breve. E poi ciclisti anonimi al fianco di Civitarese, senza di lui torniamo all'anno zero. E poi in basso, glaucoma, settimana di prevenzione, i consigli del professor Mastro Pasqua e le terapie del dottor Pellegrini. E poi scuola e vaccini, sette giorni per adeguarsi la situazione negli istituti comprensivi del Pescarese. Andiamo avanti, sequestrate le auto dei Lama Alletto, un Audi Q5 e una Mercedes dell'azienda del nonno di Alessandro Neri utilizzate dal cugino. Oggi introvabile, come leggiamo da questo titolo del messaggero, i carabinieri puntano sempre più sui contrasti familiari che portarono all'estromissione di Laura e del figlio dall'azienda. Il feuduccio non ci sono al momento, lo ha ribadito anche l'altro giorno il colonnello Marco Riscaldati, al momento non ci sono indagati. E poi Resort, indagata alla funzionaria della telefonata, siamo alla vicenda, alla tragedia dell'hotel Rigopiano, i carabinieri forestali l'hanno sentita e accertato che fosse sua la voce che ha risposto a quella chiamata. E poi la cronaca in basso, parpeggia e rapina una quindicenne, arrestato due volte in due giorni. Proseguiamo, la missione dei circoli in prima linea nel sociale, l'attività solidale di Rotary, Lions, Sorp Mist, Kivans e Inner Whale, dai progetti mondiali a quelli locali, l'impegno di professionisti e donne. E poi Umberto Smajla, Shoalewai, apre il Cattisarc, anni 90, al Nettuno. E poi a Pescara un film con Fabio De Luigi, sosta vietata su Riviera e Centro Storico, perché si stanno girando proprio le scene di questo film del regista De Luigi. E poi Sipario, Carmela Remigio, debutta al San Carlo con Rossini. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila, bike sharing, auto e bus elettrici, 8 milioni per la nuova mobilità all'Aquila. E poi restituzione delle tasse, Confindustria torni a lottare. E poi l'emergenza di Amici Sbiondi difficile, che torni una scuola. E poi la cronaca in basso, droga e bullismo, arrestati due minori dalla Polizia. Possiamo vedere a tal proposito il servizio realizzato dalla nostra redazione Aquilana. La squadra mobile dell'Aquila, diretta dal dottor Tommaso Niglio, arrestato due minorenni per estorsione e droga, si tratta di due diciassettenni di nazionalità albanese, autori di un'estorsione ai danni di un loro coetaneo. Uno di essi aveva anche sostanza stupefacente. Le indagini della squadra mobile sono partite perché la madre della vittima si accorta di cambiamenti d'umore e di atteggiamenti nel figlio. La donna, per comprendere cosa vi fosse all'origine dell'inquietudine del proprio ragazzo, ha ritenuto opportuno controllare il telefono e da alcune conversazioni WhatsApp si è resa conto che il figlio riceveva frequenti messaggi dal contenuto minatorio, con richieste di denaro causate da un debito che il ragazzo avrebbe contratto per presunti acquisti di droga non pagati. La donna, nel corso dell'inchiesta, ha ricevuto anche sulla propria utenza una chiamata da un numero anonimo che con tono imperativo e minaccioso le intimava di consegnare la somma di 110 euro al figlio. La donna si era anche offerta per consegnare il denaro all'estorsore, ma quest'ultimo rifiutò, insistendo che fosse il ragazzo a portargli la cifra richiesta. La donna ha così deciso di rivolgersi agli investigatori della squadra mobile raccontando quanto accaduto e spiegando la pressione psicologica in cui versava il figlio e chiedendo anche di essere aiutata in quanto di lì a poco il ragazzo avrebbe dovuto consegnare la somma richiesta nei pressi del polo scolastico di Colle Sapone. Gli investigatori hanno così raggiunto la vittima nel luogo scelto per la consegna del denaro senza che quest'ultima si rendesse conto di essere osservato. Trascorsi pochi minuti si sono avvicinati al ragazzo due coetanei ai quali il ragazzo ha consegnato la somma di 110 euro come da richiesta. A quel punto sono intervenuti i poliziotti della mobile. I ragazzi hanno tentato di scappare confondendosi con gli alunni che stavano entrando a scuola ma sono stati inseguiti e fermati. Nel corso della perquisizione personale a cui sono stati sottoposti due giovani albanesi ad uno di loro sono state sequestrate anche 23 dosi di marijuana pronte per essere vendute nel polo scolastico di Colle Sapone. Siamo sempre all'Aquila ricostruzione all'arma e stagnazione il presidente del lancio Barattelli a nove anni dal terremoto dice niente scuole uffici restaurati in centro è il segno che non va e poi rifatta a tempo di record la statua che si era rotta in via Matris sempre all'Aquila e poi Ricci addio in nero verde il feretro del campione di rugby scomparso nei giorni scorsi avvolto nella bandiera nero verde dell'Aquila rugby accanto la maglia azzurra proseguiamo siamo alla pagina di Avezzano sul mono evasione maxi sequestro della finanza 6 milioni sarebbero stati sottratti al fisco da una notissima azienda marsicana e da soggetti operanti nel settore dell'editoria ci sarebbe anche un prestanome oltre al titolare della ditta nel mirino della compagnia avezzanese delle fiamme gialle e poi Magliano De Marsi arrestate le tre ladre specialiste in portafogli pesco costanzo innevamento artificiale ambientalisti in rivolta in basso andiamo sul molo ricostruzione di scuole case il comune accelera e poi cop pulizie le addette ancora non pagate la filcams lavoratrici esasperate chiediamo un incontro con gli addetti ai lavori dicono i sindacalisti e poi tornando nella Marsi di Avezzano municipio e ora si parla di poltrone mentre in basso vedete il titolo di Carlo della Tecneco fa il boss in incognito proseguiamo lasciamo la pagina di Avezzano sul Mona ci spostiamo a quella di Chieti per parlare di politica comunale casse comunali allarme rosso indagine della Corte dei Conti lo squilibrio sfiora i 13 milioni di euro i magistrati dicono e chiedono di riprogrammare il bilancio di Paolo e Movimento 5 Stelle all'attacco ora è meglio che di primio si dimetta dicono gli esponenti politici giovedì universitario patto tra musei e locali a Chieti in basso la cronaca ha buttato il tavolo per terra poi le coltellate così i testimoni ricostruiscono il tentato omicidio siamo alla pagina di Lanciano Vastortona partiamo da Lanciano davanti al carcere con fischietti e bandiere inaugurata la nuova sezione per 46 detenuti comuni ma gli agenti protestano per la mancanza di personale sottosegretario Chiavaroli se sarà necessario manderevo nuove guardie penitenziarie ma per ora non ci sono criticità ancora Lanciano la Venum scrive a pupillo più fondi per l'ambiente Vasto lavoraggine in via del porto festeggia il compleanno e poi la storia perché è al teatro Fenaroli di Lanciano in scena la tragedia di Aldomoro Miglianico morì schiacciato dall'albero Maxi condanne e poi al comune di Vasto vigilesse oltraggiate multa al dipendente siamo alla pagina di Teramo del messaggero terremoto torna la paura le scuole sono sicure questa la domanda che si fanno davvero in tanti ieri scossa di 3.0 molti genitori in allarme vogliamo l'incontro con il commissario ricostruzione lenta oggi la protesta al genio e poi in basso post sisma i conti non tornano poche domande di contributo nella parte bassa della pagina ancora a cattoni sempre più aggressivi blitz dei vigili urbani a Teramo proseguiamo siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo però se riusciamo eccola qui a recuperare la pagina di Giulianova di Roseto della Valle Vibrata sempre dal messaggero Santoleri manca la prova sul terriccio delitto Rapposelli i legali di padre e figlio dicono non c'è l'esame comparativo con il terreno dove è stato trovato il cadavere gli avvocati presenteranno domani o al più tardi lunedì il ricorso al tribunale del riesame per la scarcerazione ancora Giulianova il nuovo braccio del porto affonda Verticelli denuncia errori strutturali e poi cane abbaia troppo segretario del PD minacciato dal vicino con il fucile in basso alba driatica come il grande fratello altre 28 telecamere per la sicurezza a Martinsicuro cinema ambra 3 milioni e 300 mila euro per il nuovo centro giovani lasciamo le pagine del messaggero prima di parlare di sport andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città D'Alfonso per me inizia il semestre bianco il governatore risponde gli assessori dimissionari nessun passo laterale si deve solo lavorare di più abbiamo ascoltato e visto il servizio poco fa Rigopiano indagata anche la funzionaria che non ha creduto al primo allarme ricostruzione protestare a Teramo non è la situazione la situazione è la soluzione scusate la situazione è uguale a quella di Macerata lavori in ritardo per eccesso di burocrazia in basso la denuncia della CGL i tecnici assegnati a Slurks sono di nuovo senza stipendi il PD congela tutti i dissiti in vista del voto si parla di elezioni a Teramo Minosse è pronto ad accogliere Zunica in segreteria Mariani resterà commissario cittadino per le amministrative intanto nel centrodestra Morregatti si incontrano in vista del tavolo politico la San Giuseppe non sarà un polo scolastico primi impegni di spesa per la sistemazione della scuola i lavori antisismici e l'integrazione con il bando periferie proseguiamo Teatro Romano comitato critico con il commissario no alla presentazione dopo la progettazione definitiva i referendari chiedono prima di esprimersi sul progetto Pizzaiolo Terramano al top siamo sempre a Teramo Massimiliano di Gianvito secondo ai campionati nazionali Mattucci confermata direttrice sanitaria siamo ancora nel capoluogo Prutino per i prossimi tre anni ricomposta a tutti gli effetti la triade alla guida della ASL di Teramo e poi all'istituto caporale mappatura genomica dei patogeni istituto zooprofilattico riferimento a livello nazionale siamo alla pagina della provincia dialogo continuo con i sindaci della montagna l'onorevole Antonio Zennaro annuncia l'apertura di un ufficio permanente nei comuni del cratere tasse sospese una volta formato il governo andremo dice l'esponente del Movimento 5 Stelle ad affrontare anche il caso delle tasse da restituire sistemati pali e fili pericolanti in contrada acquadosso di Bisenti e poi conferenza istituzionale per il piano territoriale ieri mattina l'ultimo incontro organizzato dalla provincia con ordini professionali e portatori di interesse tre incontri per scoprire il magico mondo dell'olio ad isola del Gran Sasso siamo alla cronaca in Val Vibrata droga dall'Albania per la costa vibratiana corriere diretto a Tortoreto arrestato dalla DIA di Bari con 13 kg di marijuana nel furgone e poi Martinsicuro e comitati di quartiere chiedono più coinvolgimento all'amministrazione in basso al Badriatica attivate le telecamere di videosorveglianza per luoghi sensibili proseguiamo pagina di Giulianova non è pronta per la Pasqua la città giuliese anche quest'anno città sporca per il primo appuntamento turistico e poi la sfida di Luigi e Maria girano in bici per il mondo per arrivare nel sud-est asiatico ancora Giulianova Basanella attacca la regione per i lavori sbagliati Porto l'ex presidente dell'ente critico per fondi inadeguati e progetto difforme dal preliminare Mociano il comune ordina di smantellare la baracca abusiva che si trova nei pressi della chiesa siamo alla pagina di Roseto degli Abruzzi a Roseto nasce il BNI Adriatico il passaparola del marketing e poi la politica amministrativa pronti a modificare la tassa turistica Roseto il sindaco Sabatino di Girolamo tende la mano agli operatori commerciali della città ancora Roseto software gratuito per gestire l'imposta di soggiorno incontro tecnico in aula consigliare tra amministratori ed operatori turistici siamo a Silvi le spiagge stanno scomparendo nella città rivierasca della parte sud della provincia di Teramo lavori per i pennelli sospesi a tempo indeterminato in alcune zone manca lo spazio per piantare gli ombrelloni Pineto nuovi calendari della differenziata a disposizione dei cittadini ad altri sbloccati fondi per la città Ducale per Notaresco e per Bisenti in totale come leggiamo in questo articolo sono 1.300.000 euro i milioni liberati dall'agenzia per la coesione territoriale siamo alle pagine della cultura tra buio e neve lo spazio dell'amore nel nuovo libro di poesie di Rosato lungo dialogo con il tempo e la memoria possiamo tornare le pagine del centro per parlare di sport lo sport con la corsa scudetto e iniziamo con lo sport il calcio nazionale della Juventus che ieri nel recupero della gara che era stata rinviata per neve ha battuto l'Atalanta per 2 a 0 con le reti di Higuain e Matuidi Juve che prende il volo e si porta a più 4 in testa alla classifica 4 punti di vantaggio sul Napoli messi incontenibile Conte eliminato Champions League il Barcellona travolge il Chelsea doppietta dell'Argentino e gol di Dembélé siamo all'Europa League questa sera tocca al Milan Rossoneri di scena a Londra con l'Arsenal difficile ma non impossibile ribaltare lo 0-2 dell'andata la Lazio a Kiev riparte dal 2-2 dell'Olimpico e siamo alla pagina relativa al Pescara la crisi dei Biancazzurri Pescara il nemico in più è un calendario da brividi come possiamo vedere da questo articolo gli avversari delle prossime 5 gare saranno Avellino Brescia e Palermo in trasferta Empoli e Bari in casa vertice in società per ora si va avanti con Epifani in panchina ma leggiamo in questo risvolto non è escluso che un eventuale passo falso in Irpinia possa mettere a rischio la posizione dell'allenatore intanto ad Avellino il presidente Taccone prepara la cessione del club e non ci sono buone notizie in vista della gara di domenica al Partenio Lombardi perché Campagnaro e Proietti salteranno anche la partita con gli Irpini siamo la pagina della serie C il Teramo Teramo allergico alle vittorie soltanto 5 in 26 partite Graziano chiede e dice che serve più cattiveria noi invece in casa Teramo andiamo ad ascoltare la voce dell'esperienza la voce del capitano Ivan Speranza Ivan tu sei uno di quelli che vede il bicchiere a mezzo pieno o mezzo vuoto dopo il punto arrivato contro il Sant'Arcangio ma penso che comunque domenica è stata fatta una buona partita nel senso che l'interpretazione della partita era quella contro una squadra comunque una diretta concorrente nel senso per la corsa della salvezza ed era quella la partita abbiamo avuto qualche occasione magari il secondo tempo potevamo creare qualcosina in più però se sfruttavamo quelle occasioni magari le partite sono quelle classiche partite che finivano così chi segnava magari vinceva un punto buono per dare continuità però manca ancora quella vittoria in casa in questo nuovo anno che per adesso è ancora sfuggita sì sì sicuramente però prendiamo quello positivo nel senso abbiamo trovato la compattezza di squadra stiamo trovando in queste ultime due partite abbiamo trovato questo assetto che magari ci ha permesso di fare questi questi punti sicuramente dobbiamo migliorare lì davanti ma da tutti non solo dagli attaccanti perché noi come da dietro dobbiamo mettere migliori condizioni gli attaccanti davanti alla porta per far bene però ripeto prendiamo di quello positivo che abbiamo fatto in queste due partite che effetto fa non aver preso gol da 180 minuti ormai? per noi difensori è sempre una cosa positiva e ripeto dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare su questa strada dobbiamo continuare a lavorare così perché penso che questo magari in questo momento è quello che ci ha fruttato di più nell'ultimo periodo quindi continuare così Albinolef non vince da fine gennaio non è in un momento positivo di certo magari paradossalmente è ancora più complicata così sì sì secondo me hai perfettamente ragione abbiamo visto già l'andata Albinolef per me è una grandissima squadra è un fatto di un buon gioco grandi palleggiatori sicuramente non viene da un momento positivo e sicuramente verranno qui per per fare per far punti di sicuro quindi non sarà non sarà facilissimo noi dobbiamo aspettarci come come sto dicendo nel senso una squadra guerrita che mette tutto in campo per cercare risultati e uscire da questa crisi dalla serie C alla serie D per parlare dell'Aquila tutti in fuga dalla squadra Rosso-Blu la squadra ora è sola si dimettono i dirigenti dopo che i soci hanno disertato l'assemblea e così giocatori e tecnico sono all'abbandono leggiamo ancora l'amministratore Miani convoca un'altra riunione per approvare il bilancio se non ci saranno sviluppi positivi lascerà anche lui la gestione corrente resta un'incognita il calcio di eccellenza ieri si è disputato un recupero di campionato con la vittoria di misura del Paterno per 1-0 sullo Spoltore il gol di Giglio Spoltore che resta a 46 punti in classifica Paterno che invece si porta a quota 51 Coppa Italia di promozione Casalbordino supera il Fontanelle in rimonta nella semifinale di andata e poi siamo alla pagina del basket basket di serie A2 Roseto fa i conti per la salvezza e cerca il colpaccio a Iesi la prestazione contro Trieste ha ridato fiducia agli Sharks che in questa stagione non hanno mai vinto in trasferta vedete questo specchietto a fianco con le tre squadre che si giocheranno la salvezza Bergamo che ha 10 punti in classifica Roseto ed Orzinuovi che di punti ne hanno 8 e dal basket al volley la Sieco vince il tie break si tiene stretta la A2 per la volo gli ortonesi si impongono nel recupero di Aversa e mettono al sicuro la salvezza Aversa Sieco Ortona 2-3 vittoria fondamentale che vale la A2 per il sestetto ortonese e siamo alle pagine dello sport del messaggero Pescara ti aspetta un finale da brivido spettro della retrocessione in 12 gare dopo le sconfitte della gestione Epifani allarme infermeria ieri fuori in 8 domenica d'Avellino rientra Valzania e poi gioia di Francesco Verratti che flop dopo il Delfino si parla di Verratti centrocappista del Paris Saint Germain e poi il basket in basso Moretti nel gran ballo del Marx Madness il talente rosetano con la Texas Titch affronta Austin nella finale del campionato americano universitario di basket seconda pagina di sport dalle colonne del messaggero Teramo Graziano in calza dobbiamo essere più cinici e contro l'Albinoleffe ci proveremo fino alla fine l'Aquila se ne vanno tutti i collaboratori lettera di dimissioni situazione societaria dicono i collaboratori che si sono dimessi ormai intollerabile poi la mezza pagina del giovedì come ogni volta come ogni settimana sul messaggero per parlare della Wisp Sporting scacco al Reggina la festa dei giocatori biancazzurri per l'importante vittoria e chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali chi li prende più Juve scatenata 2 a 0 all'Atalanta più 4 e ciao Napoli questo è il titolo di apertura della gazzetta e poi Milan assalto Cutrone Silva e Pista Araba la Lazio a Kiev riparte dal 2 a 2 Montella solo Siviglia al Diavolo i rimpianti parla questo gioco nel titolo gioco di parole nel titolo perché Montella era fino a qualche mese fa allenatore del Diavolo ovvero del Milan Montella protagonista con il Siviglia del passaggio di turno nella Champions League siamo al corriere dello sport Juve forza 4 recupero 2 a 0 all'Atalanta e stacca il Napoli in classifica chiudiamo con tutto sport Ciaone la Juve scappa più 4 sul Napoli la gioia lo vedete nella foto di Iguain e noi siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alle 14 come sempre per la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata a a a a Grazie a tutti.